21 milioni e 600 mila euro per l'alluvione che ha colpito le province pesarese e anconetana. A due settimane dalla catastrofe ambientale e umana, il Consiglio regionale ha approvato l'assestamento di bilancio con una maxi variazione destinata alla eccezionalità dell'evento. Acquaroli ha sottolineato lo sforzo enorme con 15 dei 21 milioni che saranno destinati alla manutenzione dei fiumi fino al 2024. Nello specifico, subito nel 2022, 6 milioni per un fondo straordinario di sostegno alla liquidità delle imprese che hanno subito danni a causa dell'alluvione e 1 milione e 600 mila euro per la pulizia dei fiumi. Dopodiché, 7 milioni per la manutenzione straordinaria dei fiumi nel 2023 e altri 7 per analoga manutenzione nel 2024. Acquaroli in Consiglio ha enfatizzato uno stanziamento mai realizzato prima ma doveroso per la eccezionalità catastrofica dell'avvenimento. Lo stesso governatore ha pure rivendicato i 106 milioni già stanziati in due anni per il dissesto idrogeologico contro i 98 nei 5 anni della precedente giunta regionale. Per andare incontro all'alluvione vengono depennati dal bilancio diversi stanziamenti a iniziative culturali. Per la provincia di Pesaro da segnalare ad esempio la rinuncia a 80 mila euro per le proloco a sostegno del progetto Il Natale che non ti aspetti. Maxi stanziamento ma malumori dell'opposizione. Il Partito Democratico vede bocciato il maxi emendamento da 8 milioni e mezzo per un fondo di emergenza a sostegno di famiglie e imprese colpite dall'alluvione così come viene bocciata la proposta di fondo da 4 milioni destinato a contrastare il caro bollette. Sull'alluvione invece la partita resta aperta con un consiglio regionale monotematico già calendarizzato per l'11 ottobre.